Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale! Ma da quanto tempo, da quanto tempo che non ci vediamo? Giuro che mi siete mancati, davvero 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 tanto Però non mi sono dimenticata di voi, questo è super certo Oggi è un video che mi avete richiesto in tantissime E in più tante volte mi sono state poste queste domande E quindi oggi sono qui per darvi un po' di risposte Allora, come far crescere le unghie e tenerle forti e resistenti? Allora io ho brevemente la mia storia Mangiavo le unghie, cioè proprio tutte le mangiavo, era una cosa incredibile Poi in secondo media ho deciso così di smettere di mangiarle E non le ho più mangiate, non più messe in bocca Cosa molto 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 importante E... eccole qua! Non ho fatto nessun trattamento strano o chissà cosa Allora, potete magari provare ad utilizzare dei rimedi naturali Facendo quindi dei miscugli di varie cose che adesso vi dico E che servono per determinate cose Olio d'oliva e limone Mischiarli, quindi prendere un cucchiaio di olio d'oliva e mezzo limone Fare un bel miscuglietto, immergerci le mani dieci minuti ogni giorno Per una settimana, diciamo così E queste le sbianca Le sbianca tutte Oppure Secondo invece rimedio naturale Bicarbonato, limone e olio d'oliva ragazzi Scusate, non mi ricordo Allora, questa le rinforza e in più le sbianca Quindi questo è ancora molto più utile Serve due cucchiaini di bicarbonato Mezzo cucchiaio di limone E mezzo cucchiaio di olio d'oliva E bisogna qui invece massaggiare Tutta questa papparozza Massaggiarla sul dito per alcuni minuti E sempre questo va fatto magari Una volta a settimana per un mesetto buono Se no poi il risultato non si può vedere Invece adesso voglio darvi alcuni consigli miei Per farvi crescere le unghie E tenerle forti e resistenti Allora, prima cosa Tornete il vizio di mettere le mani in bocca Perché voi non vuoi la saliva le corrode Cioè la saliva porta a Ma tipo se ho lo smalto e se ho lo smalto in bocca Lo smalto va via Mia sorella Oltre che io lo ripeto Gli do le bottoli Niente, niente Lei Quando è in imbarazzo Solitamente quando si siede in imbarazzo Si mette insomma a sedita in bocca Ma non va bene Perché poi l'unghia si indebolisce Quindi primo rimedio Assolutamente no le mani in bocca Seconda cosa Mettere la base Io vi consiglio una base buona Quella di Pupa La rinforzante Che l'ho utilizzata Vi assicuro che è buona E funziona Quindi base rinforzante Sempre Sempre Poi per tirare ancora di più Le unghie resistenti Quindi magari Facendo un urto Oppure facendo sempre così Lo smalto Mettere proprio lo smalto Io faccio base Sempre Immancabile Due passate di colore Che comunque Tengo le unghie forte E poi è il topo cotto Ma o mi uccido Non è necessario insomma Però ragazzi Mi raccomando Base rinforzante Specialmente perché le ha deboli Tanti di voi mi dicono Io ce le ho morbide Si spezzano spesso Base Non tenerle in bocca Proprio Cose principali 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 Quando poi Le avete duri Resistenti E forti Perché se voi fate Questa cosa Che vi dico io Per un mesetto Guarda già Potete provare i risultati E poi io vi aspetto Su Instagram Andrea Niles 2000 Oppure Andrea Tanto io non passo Pagnotta Scegliete voi Dove potete scrivermi Questi sono i miei due profili Aspetto poi le vostre foto Del prima E del dopo un mese Le aspetto Anzi le pretendo proprio E un altro Consiglio Insomma Che voglio darvi E limare le unghie Sempre nella stessa direzione Molte estetiste Non limano E basta La teoria Limare tutte Nella stessa direzione E preferibilmente In un ambiente caldo E niente Ecco qua tutte le news E questi piccoli Questi piccoli consigli Che voglio Voglio darvi Perché insomma Sono stupidaggidi Ma vanno Veramente Veramente Bene Vi mando un basso grandissimo Voglio bene A presto Ciao